Stiamo per salutare il 2019, cosa ti piace ricordare e cosa ti piace ricordare un po' meno? L'elezione del 2019 è quello che mi piace maggiormente ricordare la capacità di reazione di questa città perché è stato un anno difficile da molti punti di vista ma noi non abbiamo mollato, la città non ha mollato e il non mollare significa essere oggi come riconosciuto da tutti, devo dire la verità la città in vetta per cultura, energia, turismo e voglia di esserci e di vivere il 2020 deve essere l'anno dei servizi, l'ho detto, è l'anno più importante per innalzare la qualità dei servizi e quindi anche della vita nella nostra città che passano soprattutto attraverso rifiuti e pulizia della città decoro della città e trasporti, questi sono soprattutto i temi su cui ci impegneremo e lo faremo anche con la durezza necessaria perché avendo messo in campo una serie di azioni non c'è più alibi per nessuno, quindi il 2020 è l'anno in cui ci misureremo su questa sfida e chiederemo ovviamente ai napoletani di contribuire a vincere questa sfida.